buongiorno babies non so voi ma io da appena sveglia ho bisogno di tipo un quarto d'ora per capire chi sono dove sono e per autoconvincermi che non posso restare a letto tutto il giorno ma vorrei vabbè alziamoci mi sono appena alzata e guardate che cosa ho ricevuto da mamma e papà sono sempre i migliori perché oggi è san valentino lunedì 14 febbraio e iniziamo questo weekly vlog praticamente io e piero non possiamo vederci oggi e va tutto bene tra di noi stiamo ancora insieme non succede nulla se non ci vediamo a san valentino ma per motivi lavorativi suoi e altre cose sue che non sto a spiegarvi non riusciamo a vederci oggi che è lunedì ma recupereremo i festeggiamenti di san valentino sabato quindi io e mamma abbiamo pensato perché non fare a casa una cenetta un po particolare speciale per san valentino e andremo a comprare tutti gli ingredienti per fare la pasta carbonara una ricetta che amo particolarmente ma non l'ho mai preparata in vita mia l'ho sempre mangiata ai ristoranti però mamma a detta sua è un'esperta perché lei quando è arrivata in italia praticamente lavorava in un ristorante e le facevano cucinare tutti i primi perciò ho detto di aver fatto tantissime carbonare e solo che non le fa da anni ci sono anni che non cucina questo piatto non so perché io so che di solito comunque è una ricetta che ha le sue insidie ci sembra semplice ma dovrebbe avere delle difficoltà che se sbagliate viene tipo una frittata mi sono informata ho fatto le mie ricerche e nulla quindi questa sarà tipo la mia gioia del giorno non vedo l'ora di stasera di questa cena e vi porterò con me un po dovunque allora mi sono lavata pettinata ho fatto la lista della spesa adesso pranzetto veloce veloce e poi andiamo a prendere tutti gli ingredienti pranzetto veloce pasta al pomodoro super classica mi è arrivato un pacco apriamolo insieme prima di andare al supermercato e da parte di oceans apart che cosa abbiamo qui dovrebbe essere il belisa set sì è proprio lui il materiale è eccezionale super spesso e morbido è assurdo che sia tutto riciclato ed è composto dal bra con le coppe preformate rimovibili il pant con una bella fascia contenitiva che mi serve sempre e adoro il fatto che abbiano la cucitura a cuoricino sul lato b sicuramente aiuterà la forma pesca e poi è composto anche dal long sleeve anche lei sembra morbidissima super elasticizzata dovrebbe vestire bella aderente e devo ammettere che uno dei motivi per cui ho scelto questo set sono i buchi per i pollici lo sapete la mia ossessione per i guanti i guantini quindi questo dettaglio qui lo amo ma vediamo se riesco a fare una bella transition stile tik tok e 123 ha funzionato belisa set indossato e che fisichino fa quasi quasi che cosa mi alleno a fare sotto ovviamente ho il bra da supporto anche a me che comunque ho un seno abbastanza abbondante e poi adoro i pollici questo dettaglio delle mani ma anche il dettaglio del cuoricino dietro è davvero adorabile però non è l'unico set che ho ricevuto perché ho qui anche il kyla jacket set ecco qui il bra anche questo morbidissimo però è fatto a costine il pant anche lui con la fascia in vita restringente e poi a questa forma a pesca sul dietro che sappiamo che ci piace tantissimo ma poi arriva il pezzo forte c'è anche la giacca kyla jacket sempre in questo splendido verde militare con il collo alto le tasche comodissime i laccini da stringere in vita e in più tutta l'imbottitura è riciclata e 1 2 3 ecco qui il kyla set indossato e mi danno troppa autostima sul fisico questi completini perché davvero lo abbracciano benissimo così è con la giacca aperta ma potete ovviamente chiuderla e ha il collo alto che tiene bello caldo in più non so se avete notato ma il dettaglio che io amo tanto in più mi hanno inviato una cosa che ho specificatamente chiesto io che è il loro tappetino per allenarsi perché il mio è veramente distrutto e questa è solamente colpa di qualcuno tutta colpa sua che ha giocato con lui sapete quando i gatti calciano le cose ecco grazie mille amore ti voglio bene anch'io comunque sembra molto molto più resistente di quello che avevo io perciò non dovresti azzannarmelo se no niente più che disfaction io te l'ho detto gatto avvisato mezzo salvato mi hanno anche dato un codice sconto per voi che è ghiuta che vi regalerà un set totalmente gratuito con una spesa minima di 79 euro secondo me questa promo è fantastica se avete qualcuno un'amica una mamma con la quale volete iniziare ad allenarvi per questo nuovo anno 2022 per i nostri buoni propositi dell'anno così potete dividervi la spesa di 79 euro e avere appunto due set nuovi anche se questo buon proposito di ricominciare ad allenarmi ce l'ho anch'io e infatti non ho ricevuto a caso questi set mi sono detta oggi ok è san valentino voglio festeggiare con qualcosa di buono ma da domani comincio ad allenarmi a mangiare un pochettino meglio sono stata particolarmente sedentaria e ho mangiato tantissime schifezze ultimamente da adesso forse un po in ritardo perché siamo a febbraio però da adesso si ricomincia a mettersi in riga ma bando alle cianci direi di andare al supermercato a prendere le schifezze per questa sera uova ora ovviamente andiamo a prendere la pancetta scherzo ovviamente non tranciatemi prendiamo il guanciale abbiamo deciso che come formato di pasta prendiamo questo spero vada bene cambio di programma ho preso anche il liquore e il mascarpone per fare un tiramisù ecco qua bottino preso e coca zero che non può mai mancare sono tornata a casa non ho perso tempo nel mettermi comoda e adesso mi metto a mettere a posto il casino che ho lasciato prima di uscire che non vi faccio vedere troppo perché un po mi vergogno e poi iniziamo a preparare il tiramisù e io ho già una fame non vedo l'ora di cenare allora ecco qui il tiramisù quasi pronto manca solo il cacao sopra e con questo andiamo proprio sul sicuro perché io e mamma l'abbiamo fatto tantissime volte ed è sempre uscito buonissimo e tutti quelli che lo hanno assaggiato ci hanno sempre detto che è delizioso l'unica cosa è che noi lo facciamo con i biscotti petit tipo gli oro perché abbiamo provato varie volte con i savoyardi ma questa è proprio una scelta personale so che è impopolare però noi lo preferiamo con questi biscotti fateci sapere voi lo fate con i savoyardi o con qualcos'altro ora va in frigo fino a questa sera eccoci qui sembra venuta benissimo allora sembra venuta benissimo l'uovo la cremina è rimasta cremosa non si è cotto quindi perfetto allora babies la carbonara buonissima avrei dovuto fidarmi di mia mamma quando ha detto di essere una pro perché infatti aveva ragione era veramente top poi fatemi sapere anche voi almeno dalla clip da com'era l'aspetto se mi sembrava fatta bene buona perché il sapore e la consistenza erano perfette secondo la mia opinione adesso io bella ci guardiamo una puntata di euphoria e poi ce ne andiamo a lettino buonanotte buongiorno babies oddio che capelli ho buongiorno babies oggi è martedì 15 febbraio la festa dei single o dei cornuti non ho ben capito fatemi sapere che giorno è sono stata un pochettino al pc ma la cosa importante è che oggi dopo pranzo inizierò l'allenamento inizierò soft ho un po' paura perché sono totalmente fuori forma ma ce la possiamo fare ce la possiamo fare quindi niente in questa clip praticamente mi sto incoraggiando da sola e non la andiamo a pranzare poi come andrà andrà eccomi qui babies ho indossato il belisa set che vi ho fatto vedere ieri ovviamente sotto ho anche il bra così mi supporta bene sono pronta per il primissimo allenamento beh diciamo che ho anche un po' paura però sono piuttosto carica allora sono sul canale di pamela rafe non ho mai fatto un suo workout non ho mai seguito i suoi video però hanno sentito parlare benissimo in passato ho provato quelli di chloe erano difficilissimi spero che questi siano più semplici so che lei sul suo canale fa proprio allenamenti pensati per ogni giorno e vi dice che video seguire però per la prima volta proverei qualcosa di più semplice inizio a fare questo qui poi magari ne faccio un altro vediamo ho disteso qui il tappetino di oceans ed è tipo lunghissimo a malapena ci sta qui sul pavimento il mio quello vecchio brutto di prima era tipo la metà quindi già lo preferisco e poi qui ho messo ovviamente il pc con il video non ce la posso fare non è che sono fuori forma di più vabbè è andata e direi che i miei capelli ne sono assolutamente la prova ditemi che qualcuno di voi è al mio stesso livello almeno non mi sento sola e ci motiviamo a vicenda si sente l'ambulanza in sottofondo io penso che stiano arrivando per me mi avranno sentito in difficoltà allora mi sono un po' ripresa e stasera io e mamma facciamo una ricetta un po' particolare quindi vi faccio vedere in realtà è tipo una ricetta super classica che facciamo tutti che la pasta con il tonno ma tipo un po' rivisitata grazie a tiktok l'abbiamo fatta già diverse volte no? questa ricetta si io l'adoro lei supervisiona il tutto padella antiaderente filo d'olio e soffrittino di aglio e peperoncino piccante poi buttate i pomodorini questi qui sono datterini e la passata di pomodoro quando i pomodori sono cotti dovete aggiungere una scatola di tonno a testa quindi qui ne abbiamo messe due il prezzemolo il basilico e la scorza di limone eccola qui che bel piattino ho una fame babies ditemi se la parte più bella di allenarsi non è farsi la doccia mega rilassante dopo il top del top comunque ora mi metto a guardarmi un'altra puntata di euphoria perché sono un bel po' indietro non le sto guardando appena escono ma queste che sono uscite ora me le sto guardando praticamente tutte di fila e dovrei essere alla 5 forse o alla 4 ora vedo in ogni caso sono l'unica che odia tutte le scene in cui c'è Ru non ha niente a che vedere con Zendaya che l'adoro però proprio il personaggio di Ru mi sta sui allora ho cercato di mettere pausa in una scena in cui non vi spoilerasse nulla però rettifico sono alla quarta puntata la prossima dovrebbe essere quella di cui parlano tutti che è tipo super drammatica sono super curiosa ma credo che la vedrò un altro giorno buongiorno babies oggi è giovedì allora ieri non ho registrato perché è stata una giornata un po' da pc ho letteralmente risposto a delle email editato un video che vedrete non so se prima o dopo di questo comunque è un all the scene quindi tenete un occhio sul canale se non è ancora uscito però non ho fatto nulla di interessante e il senso di questi weekly vlog è appunto non farvi vedere ogni singolo giorno ogni singolo momento ma sono le cose che voglio condividere con voi della settimana allora oggi come ho detto è giovedì è già tardi perché siamo un orario dopo pranzo mi sono già vestita perché ho intenzione di andare a camminare un'oretta un'oretta e mezza oggi è una bellissima giornata fuori c'è un sole che spacca le pietre e quindi ho detto perché non approfittarne allora io sono già pronta sto già indossando il kaila set che vi ho fatto vedere l'altro giorno ecco qui e direi che è perfetto per oggi perché ovviamente cioè siamo ancora a febbraio fa ancora freddo però se ho caldo posso togliere la giacca non mi porto nemmeno la borsa metterò le airpods, il portafoglio e il telefono qui nelle tasche laterali è una giornata bellissima c'è un sole assurdo però effettivamente si sente comunque che siamo a febbraio perché c'è un certo venticello ogni tanto infatti il collo alto aiuta un sacco mi sono portata dietro questa bottiglietta di smoothie questi qui sono buonissimi se li trovate al supermercato ve li straconsiglio comunque camminare all'aperto è tipo l'attività fisica che mi dispiace meno ancora meglio quando sono con un'amica con mia mamma o con Piero ma oggi è andata così sulla soletta allora sono tornata a casa mi sono già lavata cambiata messa in tenuta da casa e devo dire che molto meglio rispetto all'allenamento dell'altro ieri comunque mentre non c'ero è arrivata la degusta box meno male che c'erano i miei a casa che l'hanno ritirata cioè hanno aperto il corriere e volevo aprirla insieme mi sono messa qui al tavolo così la spacchettiamo insieme per chi non avesse visto il video precedente nel caso comunque ve lo lascio qui però brevemente è praticamente una mystery box di cibo ogni mese il contenuto cambia e di solito ci sono novità un po' sfiziose che troviamo al supermercato e che i brand vogliono far provare queste box le pago io con i miei soldini però quando ne prendete una vi danno un codice amico e questo fa in modo che chi lo utilizzi riceva la box a un prezzo scontatissimo ora non mi ricordo se è 7,99 un 9,99 invece di 16 euro e nel caso utilizziate il mio codice io ricevo dei punti che accumulati posso ricevere una box gratuita però c'è scritto qui da qualche parte e giù nell'info box però andiamo a spacchettarla che sono curiosa questa qui è ovviamente quella del mese di febbraio ha una base per pinza che dice che è la preferita di fatto in casa da Benedetta questa cosa mi fa un sacco ridere però sembra buona sicuramente la troverò oh mamma mia guarda quanto sono strani ma cosa sono? con mais viola e avena sono tipo dei grissini viola sono stranissimi chips di ceci questi a te piacciono un sacco di solito no vabbè mamma mia quanto io vado matta per i grisbee cioè sono tipo una droga se non li avete mai assaggiati i biscotti più buoni che ci siano olive sacla nuovo snack cioè sono proprio in formato snack così poi abbiamo friante il mais friabile croccante no vabbè abbiamo l'aperitivo quindi e poi i cioccorilla che sembrano tipo un mix di noce e frutta secca e cioccolato semplicissimi doria semplicissimi doria e scordi? no sembrano tipo dei cracker oh i cracker molto strani verdi oh non ho assaggiare tutto con spinaci semi tostati di tiff no vabbè quelle con cuca cola? sì le gola dora alla cuca cola a me non piacciono questi gomosi no? a me piacciono un sacco quindi sono super contenta il ketchup della Calvè ma quello al 50% e meno di zuccheri meglio ancora? quindi meglio ora che infatti cerco di stare un pochino più attenta e tra l'altro è l'edizione con Disney Pixar e il film Luca e ultima cosa sì è decisamente l'ultima barattolo burro da rachidi no davvero? è la versione crunchy la versione con i pezzetti dentro quelli croccanti ok ora mettiamo a posto tutto e io vi lascio comunque il codice giù nell'info box se volete provare una degusta box allora stasera cenetta gourmet la casa ci propone bocconcini di petto di pollo con delle patate saltate in padella con un filo d'olio e niente buon appetito allora ho cenato con il pollo e le patate che avete visto e poi mi sono mangiata una mano un pugno di quei cioccorilla che avete visto che ho trovato nella degusta box e mamma mia c'erano gli anacardi che avevano sul sale e le noci invece avevano su il cioccolato fondente un mix che mi è piaciuto tantissimo io adoro l'abbinamento dolce e salato troppo volevo salutarvi perché finirei il vlog qui perché domani sarò impegnata tutto il giorno in una cosa che avevo già accennato poco poco su instagram che è un progettino personale non è nulla di top secret mamma mia che non vi posso dire però non l'ho ancora fatto non so se lo farò semplicemente perché è una cosa totalmente al di fuori dei social non c'entra nulla e quindi domani sarò tutto il giorno impegnata a lavorare questa cosa mentre il weekend come vi ho anticipato recuperiamo il festeggiamento di san valentino io e piero e staremo fuori sia sabato che domenica tutto il weekend perciò voglio godermelo ecco quindi nulla se siete arrivati fino a questo punto del video lasciatemi questa emoji giù nei commenti così saprò chi sono i true babies che guardano video fino alla fine e non mi abbandonano fino alla fine fatemi anche sapere con un commentino un pollicino in su se vi è piaciuto il vlog e se vorreste vedere altri weekly vlog così lo capisco e cerco di registrarne di più vi ricordo che vi lascio giù nell'info box il mio codice sconto per oceans apart ho adorato il loro set durante praticamente tutta la settimana me li avete visti su tantissimo e nulla io vi mando un grosso bacio e un grandissimo abbraccio ad ognuno di voi e ci vediamo nel prossimo video bye bye